Tutto rosso oggi, non c'entra con la politica, c'entra con l'incazzatura, ennesimo caffè. Perché? Sto facendo con i computer perché qualcuno, qualcuno, mi ha clonato di nuovo la chat dello smartphone. Sono due o forse tre TDC che ho abbastanza ben individuato, come dire, sono i rischi del mestiere, vuoi avere rapporti con questi signori che dicono di lavorare per l'intelligence, eccetera, e se poi dopo c'è qualche cosa che non va, TDC per capire quello che tu fai, quello che tu colloqui, dialoghi con le persone, ti clonano la chat di WhatsApp. È semplicissimo farlo, non lo dico perché è una cosa brutta, ma è molto semplice. Però cosa succede? Che quando tu invii un messaggio, ricevi un messaggio, è come se lo inviassi anche a tutti gli altri. Quindi non è che tu invii un video o ricevi un video una volta. Lo invii o lo ricevi tre volte, quindi la memoria si esaurisce subito. In più, devono aver fatto anche qualcos'altro, perché io è da ieri pomeriggio che sto svuotando le chat, le foto, sono passato da 3.000 foto a 90 foto in archivio. Non è successo nulla. È come se non avessi tolto nulla. Ma porca vacca! Tanto c'è il computer, adesso dovete clonarmi anche il computer. Ma va a quel paese, va. Buona giornata.